Da tempo il design internazionale ha eletto Milano a luogo privilegiato di incontro per i professionisti del settore. In oltre 50 anni di storia, Atlas Concord si è affermata tra i primi marchi ceramici al mondo. La vocazione a produrre superfici di eccellenza per il design ha indotto Atlas Concord a inaugurare un prestigioso flagship store proprio a Milano, nel centralissimo quartiere di Brera. Lo showroom di Milano rappresenta un passaggio chiave della nostra strategia di posizionamento nel mondo delle superfici per l'architettura. Essere qui con un nostro spazio ci consente di intensificare il dialogo con i progettisti internazionali, proseguendo un percorso che abbiamo già interpreso da tempo. Per progettare assieme a noi questo spazio milanese abbiamo cercato un architetto che condividesse la nostra stessa visione di eleganza discreta ma allo stesso tempo concreta e funzionale e lo abbiamo trovato. Mi piaceva far passare un'idea molto semplice. Con Atlas Concord abbiamo progettato, discusso e alla fine l'idea principale di questo progetto è stato non facciamo uno showroom, facciamo una galleria, una galleria d'arte. I prodotti di Atlas Concord sono industrialmente da considerare dei pezzi d'arte. Li vedi in realtà per quelli che sono vere opere d'arte. Un vecchio palazzo milanese con l'anima milanese ma con all'interno questa specie di cuore pulsante di Atlas Concord. È uno spazio dove le persone, la gente, gli esseri umani qui dentro lavoreranno. Il nuovo showroom di Milano conferma l'attitudine di Atlas Concord ad affrontare ogni progetto con la determinazione e la visione di chi guarda al futuro con ottimismo e fiducia. Grazie. 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 Grazie a tutti.